Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che ancora vedrà un'area di alta pressione sull'Europa centrale, lungo il cui bordo meridionale scorrono correnti fredde che continueranno a raggiungere l'Italia, quindi temperature crescono bassine, inoltre bassa pressione sul Mediterraneo occidentale che comporta condizioni di maltempo sulle nostre isole maggiori. Vediamo infatti la nuvolosità presente appunto sulle isole anche al mattino all'estremo nord ovest, per il resto non mancheranno delle belle schiarite. Come precipitazioni inizialmente la Sardegna ma passava poi soprattutto la Sicilia a vedere arrivare piogge diffuse anche con la neve nell'entroterra e inizio giornata qualche fiocchettino di neve sulle Alpi piemontesi. Quindi in definitiva ci attende un martedì che tutto sommato ci regalerà anche ampie schiarite, però un po' di variabilità all'estremo nord ovest sulle isole maggiori diciamo soprattutto in Sicilia, qualche nuvola anche sul medio e basso adriatico. Attenzione al vento che ancora si farà sentire sostenuto al centro-sud e temperature soprattutto che rimangono basse in tutta Italia. Per i dettagli comunque sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.